Buongiorno amici di TechDifferent, benvenuti all'unboxing della nuova sport action camera AOK ACL-C2. Eccoci qua, come potete vedere, una confezione molto carina. Subito all'interno troviamo la nostra action cam con già la copertura che la rende impermeabile all'acqua e che sembrerebbe anche molto facile da togliere. Così. E' già slegato. Successivamente, sotto, ci sono vari accessori, telecomandolino remoto per scattare foto e video. Altri fascetti da polso per legarsi la action cam al polso. Il cavo, ovviamente, per ricaricare e scaricare i dati. Supporto per la bicicletta. Varie fascette per legare la action cam al meglio possibile. Una seconda batteria, quindi molto utile e più duratura, ovviamente. Un piccolo panno per lo schermo e un altro supporto. Abbiamo ancora questo mollettone, quindi questo molto comodo per appendere l'action cam. Ecco qua, supporto per il treppiede. Come vedete, questo grato, appunto, aiuta l'action cam a legarsi a questo, che può essere messo fisso oppure mobile tramite questo, per una ripresa più stabile. Questo è un supporto da testa. Con questo e questi altri supporti possiamo rendere più flessibile la nostra nuova Aukey. e con questo, che è l'ultimo, abbiamo un schermetto di riserva per l'acqua, quindi eventualmente se si dovesse rompere, ne avete uno in più. Con questo abbiamo terminato la garanzia di Aukey. Passiamo ora all'accensione. Come potete vedere, è molto semplice. Dal tasto davanti si tiene premuto. Potete ben vedere, è già impostata sulla sezione dei video, ma non funziona correttamente finché non inserite una memory card adatta alle sue prestazioni, quindi state molto attenti. Così con il tasto sopra entriamo nel menu, possiamo navigare menu foto e menu video e così torniamo alla parte centrale. Con il tasto davanti possiamo cambiare la modalità. Impostazioni. Grazie.